Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Good Morning Milano, sono le 9.38 di oggi, mercoledì 11 ottobre e oggi parliamo di politica. Lo sapete che Good Morning Milano ormai nelle scorse mattinate ha parlato di tanti temi, abbiamo avuto anche già degli ospiti politici, poi ha parlato di temi più leggeri come ad esempio il cibo, gli studenti e oggi invece parliamo di politica, parleremo in particolare di centrodestra ma non ci limiteremo a quello, ma anzi parleremo anche del rapporto ad esempio tra i giovani e la politica ma soprattutto di quei giovani che fanno politica. Tutto questo non da solo, come sapete, come nello stile di Good Morning Milano ma con un ospite che è qui con noi oggi, è Nicolò Fraschini. Buongiorno Nicolò. Buongiorno a lei e ai suoi spettatori. Grazie mille di essere venuto. Possiamo dire, Nicolò, non ti abbiamo chiesto, il sottobancio ha detto ex consigliere politico di Corrado Passera. Esatto. Partiamo allora da qui, nel senso da una storia molto vicina, appena successa, che si è conclusa, si è anzi evoluta in qualcos'altro. Come è stato appunto l'avvicinamento con Corrado Passera e poi la campagna elettorale, le decisioni che poi state prese per poi andare avanti nella più grande area del centrodestra? Corrado Passera, ormai quasi due anni fa, aveva fatto un lungo giro per l'Italia cercando di capirne tutta una serie di problematiche, di incontrare cittadini, imprese, associazioni. Ha fatto un grande viaggio nel paese per capire se c'è uno spazio per creare un nuovo partito e parlare all'Italia profonda. Secondo lui lo spazio c'era, fondò Italia Unica ormai a gennaio del 2015 per poi decidere in realtà di cominciare concretamente il suo percorso politico candidandosi come sindaco di Milano, per cui ormai parliamo di giugno dello scorso anno. Del Via ha una lunga campagna elettorale che aveva anche una discreta visibilità per poi però il 9 aprile ritirarsi dalla corsa e decidere di sostenere Stefano Parisi nell'ottica di rafforzare l'unità del centrodestra e di provare a strappare Milano al centrosinistra. Purtroppo sappiamo com'è andata, Milano è rimasta al centrosinistra, il contributo elettorale di Corrado Passera è stato oggettivamente modesto perché la lista civica di Parisi che di fatto faceva capa lui ha preso solo il 3% leggendo un unico consigliere comunale quindi si può dire in realtà che la missione su Milano sia sostanzialmente fallita. Se vi può consolare dall'altra parte la lista che faceva capo all'ex sindaco Pisapia non ha fatto grandi risultati, parlo di sinistra per Milano, non ha fatto dei grandi risultati quindi se vi può consolare almeno è che non siete stati gli unici che forse in questa tornata elettorale in realtà quando si diceva che i big erano fatti fuori, i grandi partiti no invece i grandi partiti hanno fatto man bassa di voti ancora una volta. Assolutamente sì, i cittadini alla fine si lamentano molto ma tendono poi a votare quelli che già conoscono. Le liste civiche hanno sempre il problema appunto di riuscire a farsi conoscere in quelle fasce dell'elettorato magari meno istruite che seguono meno l'attività politica. Fatto sta che la lista civica di Passera si sperava potesse essere quella che faceva la differenza e invece non l'ha fatta, questo purtroppo è il dato, Milano è rimasto alla sinistra tant'è che poi a inizio settembre, quindi dopo una lunga riflessione estiva Passera ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la sua attività politica e ha sciolto Italia Unica in pianta stabile. Quindi Fraschini adesso mi ritrovo con un Fraschini disoccupato oppure invece ha ritrovato un'altra collocazione e anzi forse anche più... Ma allora politicamente disoccupato, diciamo che sono svincolato più che altro, ma posso parlare da uomo libero. Come parametro zero mi sembra si chiami nel calcio. Non sono molto calciofilo, ma credo che... Ecco, diciamo che i parametri zero si possono prendere gratis, cioè io non mi reputo in vendita, ecco. Però diciamo che parlo da uomo libero, in questo momento non ho la testa di un partito, mi reputo, come mi sono sempre reputato, un liberale di centrodestra, l'area politica poi a cui faccio il capo alla fine dei conti è sempre quella, chiaro Stefano Parisi oggi è il leader politico da cui mi sento meno lontano. Esageriamo di dire più vicino, quanto meno meno lontano. Ecco, sentire parlare il centrodestra in questi anni, soprattutto chi fa politica nel centrodestra così, sembra un po' sentire parlare chi faceva politica nel centrosinistra qualche anno fa, cioè appunto tu mi dicevi non mi sento così lontano, ma dire che sono così vicino è azzardato. Cosa succede nel centrodestra? C'è uno smarrimento, c'è una ricerca... Dopo Berlusconi il nulla? Allora, c'è un problema di idee... Scusa, siamo al dopo Berlusconi? Questa è la vera domanda, non si è ancora capito quanto Berlusconi pesi. Probabilmente non è più determinante per fare qualcosa, ma è determinante nel bloccare qualunque cosa, qualunque fenomeno successivo a lui. È una posizione difficile che rende difficile in realtà il percorso anche a tante persone che fanno politica, purtroppo. E lo dico non sa della simpatia che ho sempre avuto nei suoi confronti, ma oggi come oggi è un fattore d'ostacolo secondo me per il proseguo del cammino. Comunque i propri del centrodestra secondo me appunto sono due. Uno è di idee e l'altro, conseguente, è di leadership. A livello di idee il centrodestra ha avuto una involuzione totale. Nel 1994 il centrodestra nasce come polo liberale, anche liberista per certi aspetti, che si batteva con un programma molto chiaro per la riduzione della spesa pubblica, per la riduzione delle tasse, per la diminuzione del peso dell'intermediazione politica nella vita economica del paese. Quindi con un programma sicuramente molto chiaro, cristallino. I vatti fece sì che per quasi vent'anni ci fu praticamente sempre centrodestra. Anche quando governava il centrosinistra, in realtà le bandiere politiche più sventolate erano sempre quelle. Quindi un programma molto liberale. Complice anche alla crisi economica, il centrodestra ha cambiato volto, non solo in Italia, ma una tendenza ormai, adesso che ha perfino toccato la Gran Bretagna, ha preso una piega sempre più populista. Quindi chiaramente anche tanti suoi elettori storici oggi sono in difficoltà e non lo votano più. Cioè paradossalmente uno come Matteo Renzi, con tutti i suoi limiti, il suo statalismo, comunque pur sempre un cattolico di sinistra, ma oggi incarna quel tipo di elettore che cerca la stabilità e cerca comunque meno Stato che una volta votava Berlusconi. Quindi è vero che rischiamo di avere appunto questo centrodestra che alla fine vada a votare per Matteo Renzi o comunque per le istanze che porta a lui, oppure comunque è una simpatia, diciamo, gli riconoscete certi valori, ma no, votarlo ecco forse è fin troppo. No, io appartengo a questa categoria, votarlo è sicuramente fin troppo, però bisogna riconoscere che l'elettorio di centrodestra è smarrito in questo momento. Si riconosce veramente di più in certi istanti di stabilità. Penso ad esempio al referendum, l'ultimo sondaggio del Corriere di pochi giorni fa dice che oltre a metà degli elettori di Forza Italia è orientata a votare sì, quindi vuol dire che c'è un evidente scollamento tra i vertici e la base. Ovviamente assolutamente devo chiederti, invece tu se hai un'idea di cosa voterai al referendum? Io voterò sì, non benché di centrodestra, ma voterò sì proprio in quanto di centrodestra. Il centrodestra nel 1994 è sceso in campo anche con l'intento di modificare la carta costituzionale. Nel 2006 ci provò, poi il referendum bocciò al tentativo, infatti molti esponti del centrodestra, su di quelli storici come Marcello Pera, Giuliano Urbani e così, tuttora si battono per il sì. È una questione di coerenza secondo me, il centrodestra ha cambiato idea all'ultimo, infatti in questo referendum mi si è consentito, sta giocando una partita da spettatore. Si vince il no, vince Grillo, si vince il sì, vince Renzi. Il centrodestra è completamente ininfluente. Tu mi parli appunto di questa deriva populista del centrodestra, che però uno pensa sia stata fatta appunto per portare più voti al centrodestra, per parlare, come si dice, alla pancia della nazione, e invece scopriamo che anzi questa politica forse porta più danni che risultati, perché appunto se abbiamo questo elettorato di centrodestra, sono un rito che poi alla fine, anzi, magari non vota per gli altri, ma peggio, non va a votare, forse c'è qualcosa da rivedere allora in questa politica. Però a mio avviso è proprio così, infatti i risultati elettorali del centrodestra dal 2013 ad oggi sono praticamente sempre identici. Il centrodestra ha perso praticamente tutte le sfide negli ultimi quattro anni. È un dato di fatto, l'elettore di centrodestra non capisce più qual è la linea. Secondo me in realtà quella della deriva populistica non è neanche stata una scelta molto lucida, ed è arrivata dal fatto che Berlusconi, che nonostante tutto io non reputo un populista, aveva un programma chiaro, si collocava nel Partito Popolare Europeo, quindi comunque la direzione secondo me non era quella di un partito populista, mano a mano che Berlusconi ha perso potere, sono emerse leadership alternativa alla sua, come quella di Matteo Salvini, come quella di Giorgio Meloni, che tirano da quella parte. Solo che si è visto che l'elettorato italiano non è un elettorato estremista, è un elettorato che cerca la stabilità, il famoso moderato, sì ma secondo me l'italiano non è un moderato conservatore, è un moderato che cerca la stabilità attraverso un graduale processo di riforma. Gente come Salvini e la Meloni non vengono avvertiti come riformisti credibili. Anche questa radicale opposizione all'Europa secondo me non ha premiato... Mi ha anticipato appunto la domanda che volevo farti sul discorso proprio europeo, a un certo punto di essere ditati no euro to cure. Cosa ha portato secondo te un elettorato invece molto probabilmente europeista in un certo punto di vista? Questo è il punto, cioè chiariamo l'ultimo referendum in Italia su questo argomento risale all'88, quindi può esserci stata un'evoluzione, ma quando all'88 si votò su un aumento delle prerogative del Parlamento europeo in Italia, l'88% dei votanti votò sì, quindi significa che gli italiani hanno storicamente un buon tasso di fiducia nelle istituzioni europee, che sicuramente è molto diminuito negli ultimi anni, ma è ancora fortemente stabile, anche perché avendo una forte sfiducia nelle istituzioni italiane, che è chiaro che quell'Europa è proprio così. Quindi come dire, attaccare uno dei fattori di stabilità dell'Italia non ha certamente aiutato. L'Europa ha percato tutti i disagi del mondo, ma non è un segreto che abbia stabilizzato il rendimento dei nostri titoli di Stato, che abbia reso il nostro paese molto più credibile. Quindi attaccare l'Europa e attaccare, come spesso fanno Salvini e Lameloni, anche l'aggancio agli Stati Uniti e alla Nato, siccome destabilizza l'elettorato, cioè Europa e Nato sono sempre stati pilastri della nostra politica estera. Anzi, l'attacco alla Nato era un fil rouge della politica di sinistra radicale, appunto. È così, l'elettorato di centro-destra si è smarrito, si parlava prima di liberismo, si parlava di agganciamento all'Europa e all'America come capissai dalla nostra politica estera, in pochi anni c'è stata una deriva praticamente venezuelana del centro-destra. Questa è l'anomalia ormai, adesso i giovani padani, faccio un esempio, l'altro giorno hanno fatto un manifesto in cui c'è Che Guevara in verde, dicendo la rivoluzione ha cambiato colore. Ormai se passati dalla Thatcher a Che Guevara, l'elettorato di centro-destra non capisce più la linea. Questo è il dato di fatto. Ti chiedo allora questo, forse l'anomalia sta proprio nel fatto di aver inserito o aver fatto inserire o aver aperto le porte del centro-destra o un movimento come la Lega a quel punto? Ma la Lega in realtà sarà sempre nel centro-destra, solo che finché ha avuto un leader come Bossi che con tutti i suoi limiti aveva una visione del paese e del nord. Perché sappiamo che storicamente la Lega comunque arriva anche da zone di sinistra, cioè una base della Lega era ancora oggi, sono gente ex partito comunista. Sì, sì, Salvini aveva parlato di cosetti comunisti padani e si vede, diciamo che da quando è cambiata la leadership da Bossi e Salvini passando per il Maroni, il cambiamento è stato totale, tanto che lo stesso Bossi e gli ultimi metri della Lega attacca duramente Salvini. Se passare da una Lega federalista a una Lega nazionalista ed eurocettica, non dovrebbe nemmeno più chiamarsi Lega Nord, potrebbe chiamarsi Lega Italia o Lega Italie, come va a dire Salvini, ma un altro mondo. Cioè la Lega è il partito che secondo me negli ultimi anni ha cambiato più pelle ed è quello che ha disorientato l'elettorato. E ha fatto molti danni però, come dicevi, nel vostro elettorato. Esattamente, è quello ex Forza Italia, perché poi in realtà è l'ex Forza Italia ex PDL. Tant'è che credo che questi danni si possano proprio vedere a Milano, storicamente nella città comunque più propensa a un centro-destra che per due volte, cioè per due volte le ultime due elezioni, niente, non è riuscito, prima Pisa Pia, ora Sala. Che cosa manca a Milano proprio, nello specifico? Allora a Milano bisogna ammettere che il centro-sinistra ha scelto benissimo il suo candidato. Nel 2011 Pisa Pia vinse per i demeriti della Moratti, che invece è una campagna elettorale a mio avviso sbagliatissima, spostano troppo a destra la barra dei contenuti. Nel 2016 bisogna riconoscere che Renzi ha scelto un candidato naturalmente vincente, il centro-destra gli ha contrapposto una sua coppia, perché Parisi ricorda come profilo personale quello di Sala e purtroppo l'elettorato dall'originale alla coppia tende a scegliere sempre l'originale. Quindi secondo me contro Sala la partita era veramente impegnativa. È difficile reputare Sala un uomo di sinistra. Il suo programma elettorale ricordava anche molto quello di Parisi. Diciamo che i milanesi hanno avuto da questo punto di vista un privilegio rispetto ad altre città d'Italia, un'alternativa tra due candidati di alto profilo e con due programmi che guardavano davvero allo sviluppo della città, molto pragmatici, poco ideologici. È dura strappare la città al centro-sinistra, quello che si può fare è cercare di ipotizzare una città ancora più efficiente, con un ispiro ancora più internazionale. Questo è quello che mi sembra che chiedono i milanesi. Da un lato politiche sociali forti, su cui mi sembra che il centro-destra abbia sempre in realtà parlato bene, si può pensare magari ad un'ambizione ancora maggiore. Magari c'è stato fallito in questo. Non ha saputo disegnare una mia ora del futuro ancora più aperta, ancora più competitiva. Ecco, questa è stata la mia sensazione. Ok, perfetto. Allora, ci fermiamo giusto un minuto per una brevissima pausa, per andare a vedere che tempo fa, che anzi sembrerebbe, se non sbaglio, che sia arrivata la pioggia su Milano. Tra un minuto, un minuto e mezzo neanche, torniamo qui da voi, in diretta, con Good Morning Milano, con Niccolò Fraschini. A fra poco! Ed eccoci di nuovo in diretta, 9 e 54 dell'11 ottobre, oggi. Ma era martedì, avete visto, sta piovendo su Milano, nonostante le nostre previsioni erano un po' più positive, diciamo nuvoloso così, invece, anche oggi la pioggia è arrivata e mi sa che sarà così per tante settimane a venire e oggi, anzi, abbiamo parlato anche questo, le temperature sempre in discesa, ma ricordate che i riscaldamenti si possono accendere dal 15 di ottobre in avanti. Ma non stiamo parlando di questo questa mattina qui a Good Morning Milano, stiamo parlando di politica, lo stiamo facendo con Niccolò Fraschini, un giovane politico, è stato anche ex consigliere comunale a Pavia, perché tu arrivi da Pavia, adesso è un po' di mesi che vivi a Milano dopo la campagna elettorale, naturalmente ti sei innamorato della nostra città e siamo ben contenti che tu sia rimasto qui a Milano. Appunto, campagna elettorale che Niccolò ha iniziato al fianco di Corrado Passera, poi dopo il ritiro di Corrado Passera comunque siamo andati a sostenere la lista civica di Parisi, però mi dicevi, sì, Parisi mi piace, diciamo che ecco, gli sono vicino ma non gli sono, non mi piace così tanto, ecco, non gli sono lontano ma non gli sono neanche così vicino. Allora ti chiedo, un pregio e un difetto del Parisi, ovviamente del Parisi politico, la persona sarà una barissima persona, anzi un grande imprenditore, una bellissima televisione, anzi che noi guardiamo e cercheremo anche di fare meglio, mi spiace il signor Parisi, no? Scherzo. Un pregio e un difetto politico. Allora, il Paese secondo me sono sicuramente le idee, che sicuramente è la cosa più importante per una persona che si candida a guidare il Paese. Il suo programma che lui insiste nel definire liberale e popolare richiama finalmente da vicino quello del 94, quindi è torno a parlare di liberalismo, che secondo me è il grande assente nello scenario politico italiano. Questo è positivo, ha parlato di apertura, ha parlato di competizione, ha parlato di mercato, sono tutte parole che hanno un po' uscita dal vocabolario politico italiano. Ha parlato di riduzione della spesa pubblica e di conseguente riduzione delle tasse, anche questi sono temi che sono completamente usciti dall'agenda politica. Ha riportato in auge il tema del federalismo che negli ultimi anni, anche questo è stato completamente estremesso dall'agenda dei nostri governi, quindi davvero sulle idee secondo me c'è un positivo ritorno alle origini, ci ripropone delle ricette che di fatto non sono mai state applicate, quindi possono essere ancora efficaci. Il suo limite secondo me è un carisma che latita. Sono stato tra i volontari alla sua convention del 16-17 settembre, però devo dire che non c'erano cuori che battevano, era una scelta più di mente che di cuore e quando c'è da mobilitare le masse purtroppo è difficile mobilitare solo le menti, occorre mobilitare i cuori. Manca secondo me questo lato emozionale su cui Berlusconi era a mio avviso impareggiabile e l'altro punto di debolezza, ma questo non posso imputarglielo, è una scarsa chiarezza del mandato politico che gli ha dato Berlusconi. Un giorno l'appoggia, un giorno non l'appoggia, sembra l'ennesimo tentativo. Negli anni Berlusconi aveva tanti tentativi di lanciare nuove leadership, non si capisce se questo sia l'ennesimo tentativo che andrà a vuoto. La mia speranza in realtà è che vada avanti, perché secondo me oggi come oggi nel centro-destra non c'è un altro leader credibile e potrebbe essere anche l'uomo che rilancia parte d'Italia, che piaccia o non piaccia, ma è ancora il partito principale nell'area dei moderati. Il rilancio del centro-destra passa dal rilancio della sua componente più forte. Parisi può essere la persona giusta, però bisogna capire Berlusconi quanto lo vorrà. Se Berlusconi lo appoggia seriamente c'è qualche chance di fare qualcosa. Ecco appunto parlavi di carisma, dicevi che è un po' questo che latita in Parisi, una cosa che invece non si può imputare al Movimento 5 Stelle, che come carisma, anzi, ne ha da vendere sicuramente, molto sicuramente nel leader politico Grillo, ma anche nei nuovi rividi di Maio, di Battista, insomma gente che a carisma riesce a portare molta gente in piazza, soprattutto molti giovani. Ormai lo vediamo sia negli eletti sia nei volontari, è un partito davvero giovane dove i giovani si danno davvero da fare, cosa che invece si perde negli altri cani dei partiti. Tu hai invece 30 anni e da un po' di anni che fai politica, quindi hai iniziato molto giovane, però invece hai seguito una strada un po' forse atipica per l'idea che abbiamo di giovani e politica che sono un po' o il centro sociale oppure in questo momento il Movimento 5 Stelle. Come sta, come mai? Come è stato il tuo avvicinamento alla politica? Da quanto eri giovane? Io iniziai a fare politica a 14 anni, nel Movimento Federalista Europeo che esiste tuttora e si batteva per l'unità politica dell'Europa, poi la politica di partito l'inizio da 16 anni scrivendomi a Forza Italia e poi facendo tutto un percorso in quell'area. È chiaro che qualcuno ironizza sempre sul fatto che un giovane possa essere un cosiddetto moderato, in realtà non mi sono mai visto come un moderato e devo dire che tanti miei compagni di partito non li ho mai considerati tali. Ci consideravamo più che altro dei rivoluzionari della libertà. La nostra è una rivoluzione diversa rispetto a quella che sono nei centri sociali o legittimamente anche i giovani del Movimento 5 Stelle. È una rivoluzione che passa in realtà dalle istituzioni, passa dalla democrazia rappresentativa, passa da un efficientamento di quelle istituzioni. Quindi è una rivoluzione in un certo senso morbida, per come la vedo io, ma è una rivoluzione che in realtà potrebbe essere ben più incisiva. Il problema è che negli anni far politica da liberale è diventato sempre più difficile perché l'elettorato giovane tende a preferire forze che non sono più antisistema di noi, lo sono in maniera diversa, lo sono in maniera più frontale, ma non sono più antisistema di noi. In realtà il sistema che i liberali hanno sempre voluto scardinare è un sistema di corruzione, quindi in realtà anche noi ci battiamo in quell'ottica, ma ci battiamo dentro le istituzioni più che fuori. Poi sia chiaro il centro-destra ha fatto degli errori gravi, ma continua a non ritenere in realtà il Movimento 5 Stelle come una valida alternativa da quel punto di vista. Di Mario e Di Battista per esempio hanno un carisma invidiabile, questo non si può negarglielo, però nei partiti fino a una decina di anni fa due personaggi del genere non avrebbero fatto nemmeno i consiglieri di quartiere, non dico consiglieri comunali, consiglieri di quartiere, uno dei due non sapeva dove fosse il Venezue, Ciavez, può essere stato in Cile, anche in Venezuela, sono cose abbastanza preoccupanti. Io non dico che bisogna fare politica di mestiere, nemmeno io la faccio, però bisogna avere un percorso di lunga data. Il Movimento 5 Stelle lo rifiuta. Come mai questa deriva secondo te dei personaggi politici, nel senso che con tutta la simpatia che ci possiamo avere per i due, che anzi al momento sono appunto due anche dei migliori forse che ci sono all'interno del Movimento 5 Stelle, però questa cosa la ritroviamo non solo nel Movimento 5 Stelle, anche nel centro-sinistra, nel centro-destra, abbiamo sentito senatori e deputati fare delle elucubazioni su, ad esempio mi ricordo quando c'era votare il Didi alle Cirinna, delle cose incredibili, nel senso che non si capiva proprio in che lingua stessero parlando o dove volessero poi arrivare al punto. Come mai questo… Allora, secondo me i motivi sono due. Innanzitutto questa donnata legge elettorale che c'è stata in vigore fino ad ora, il cosiddetto Porcellum, adesso Italicum, che hanno la stessa filosofia di base che è quella di avere dei deputati eletti, cioè di avere dei voti stati nominati, quindi queste persone non si sono mai dovute confrontare con l'elettorato, ma sono state scelte sostanzialmente all'interno delle segreterie dei partiti, quindi vengono mandati lì dei perfetti ignoranti che hanno solo un compito, schiacciare il bottone quando gli viene detto, punto. Quindi questo secondo me è il primo problema. E poi in generale il fatto che, questa è una colpa di Berlusconi, il fatto che si sia persa completamente l'idea che in politica si faccia una sorta di cursus honorum come era una volta, questa idea che uno possa cominciare a fare politica svegliandosi una mattina a 50 anni senza aver mai fatto un giorno neanche il consigliere comunale, secondo me è lì il vero problema. La Lega e il PD sono gli ultimi due partiti rimasti perché lì almeno di solito c'è requisito che per poter candidarsi al Parlamento bisogna aver fatto un percorso negli enti locali, secondo me questa sarebbe una cosa che dovrebbe essere quasi fissata per legge. Si è consentito a persone che non hanno mai fatto politica neanche per un giorno, persone che non si indistinguono una delibera da una mozione di andare in Parlamento. Questo è il problema. I partiti hanno smesso di avere quella funzione di formazione della propria classe dirigente. Si arrivano, i partiti leggeri non hanno portato un miglioramento, hanno portato un peggioramento. È giusto aver abolito il finanziamento pubblico, ma questo non significa che i partiti non debbano avere una funzione di intermediazione solida, quindi una classe politica ben formata che possa fare il proprio mestiere. Questo è il problema. E invece per avvicinare altri giovani che magari invece di interessarsi alla politica si interessano a tutt'altro, come se la cosa pubblica poi non fosse anche cosa loro, cosa si potrebbe fare? Il problema secondo me è che i giovani sentono una politica così lontana da non avvertire neanche l'ipotesi di farla, non la prendono nemmeno in considerazione, perché neanche hanno visto che sostanzialmente non si è mosso mai nulla. La mia sensazione è che la colpa sia di istituzioni che non sono più in grado di decidere. La gente vota e poi l'impressione è che non succeda mai nulla. Il problema secondo me è quello di riuscire a far sì che le istituzioni siano più efficienti e quindi il voto delle persone produca qualcosa, anche un errore paradossalmente, ma produca qualcosa, cioè che la gente veda che la propria decisione ha portato qualcosa. Quindi è anche per questo che sul referendum secondo me è importante che vinca il sì, perché finché la gente ha la sensazione che le istituzioni non decidano, tenderanno ad andare più a votare, tenderanno a disinteressarsene e quando questi elettori sono giovani la cosa mi preoccupa. Se ho capito bene però sull'Italia come esempio tu sei molto scettico, non è comunque la legge giusta. È una pessima legge secondo me, proprio perché di nuovo nomina buona parte del Parlamento. Bisogna aversi come tornare alla legge che è stata chiamata Mattarellum, in cui c'erano i collegi nominali piccoli, con deputati e senatori eletti sul territorio, quindi con una forte connessione con i propri elettori, che tornavano tutti i weekend nel proprio collegio, parlavano con gli impeditori, con le associazioni. È stata, secondo me, un'epoca felice in cui c'erano delle maggioranze chiare in Parlamento, perché è un sistema maggioritario, con dei deputati che tornavano a casa a parlare con la loro bandiera. C'è chi dice che però comunque i governi duravano poco, duravano quanto un gatto in tangenziale, che ogni tre per due si facevano rimpasto di governo e nuovi governi, quindi dicevano che insomma anche all'epoca non... Però ecco, Mattarellum fu in vigore per tre turni elettorali, in quei tre turni elettorali la legislatura venne praticamente sempre ultimata. Questa vinte tutte dal centro destro, forse. Tranne quella del 96, con prodotti. Ecco, ecco l'ora perché mi piace questa legge, mi ha portato fortuna. È una legge che secondo me il maggioritario tende a dare stabilità, ma senza dare alle segretarie politiche tutto quel peso. Dare un po' più di peso ai cittadini e alle loro decisioni. I partiti... Che sia una decisione felice o infelice, ma che comunque si veda che porti poi un risultato finale alla fine. Esattamente. E quindi poi la gente capisce che il suo voto conta e ha contato, e non è solo invece stato così. E' così. I partiti pensino a formare... Un nulla osta per mandare qualcuno a prendere un po' di soldi e basta. Esattamente. I partiti pensino a formare la loro classe dirigente e non a legge di parlamentare. Quello dobbiamo pensarci noi. Perfetto, Nicolò, guarda, noi oggi abbiamo sforato alla grande, ma per fortuna sul web non ci corre dietro nessuno, quindi possiamo fare gli orari che vogliamo. Sono le 10 e 7 minuti e è stato davvero interessante. a parlare con te, Nicolò. A me è stato un piacere. Sicuramente nei prossimi tempi, nei prossimi mesi, l'evoluzione del centro-destra sarà sotto gli occhi di tutti, bisogna vedere cosa succederà, quindi sarò molto felice di rinvitarti qui per analizzare politicamente che cosa sarà successo nell'area di centro-destra e vedere chi alla fine diventerà il leader di questa zona, che adesso si potremmo chiamare forse zona grigia, perché sono un po' così. Per me è stato un piacere tornare da voi. Grazie mille Nicolò, ti ringrazio davvero tanto, davvero tanto. Grazie mille di essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi. A voi l'appuntamento invece domani mattina, 7.30, con i nostri telegiornali fino alle 9.30 e poi ancora una mezz'ora in mia compagnia, spero piacevole, con Good Morning Milano. Domani parliamo di tutt'altro, parliamo di roller derby. Noi ci vediamo domani mattina, grazie mille per averci seguito e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.